allora dicevo qualcuno di noi di voi mi ha chiesto se perché non lo faccio allora non lo faccio perché praticamente troppi modellini quindi poi non mi piace troppo vecchio io non faccio sto genere qua la testa uscita comunque esce tra due settimane ma l'ho già comprata quindi ho fatto il 2 il 3 adesso comunque nelle prossime uscite non lo porterò più a e poi vi volevo dire una brutta notizia che purtroppo le manse non posso più portarlo ragazzi non è colpa mia ma ho visto che ci sono dei numeri che veramente e mancano quindi non posso completare la collezione io la volevo completare del tutto e purtroppo ahimè non riesco abbiamo il fascicolo in questo numero qua numero 2 e è ancora l'offerta speciale per l'abbonamento adesso andiamo ad aprirlo tutto e vediamo un attimo come si presenta questi sono i componenti come vi posso far vedere dopo vediamo se c'è qualcosa di elettronico che vi faccio vedere un po questo è l'abbonamento vedete quindi abbiamo l'uscita 3 l'uscita 4 e 5 il 30 per cento di sconto 23 98 anziché 35 97 perché non uscita non la pagate praticamente abbiamo i vari regali con la carta di credito vi danno anche un cappellino e in più con un euro e 50 in più a partire dal numero 6 ma vi ho già fatto il discorso ci danno anche la teica come potete notare adesso andiamo a vedere il fascicolo numero 2 come vi faccio notare il fascicolo numero 2 e andiamo a vedere un attimo la storia qua ci sono i componenti della prossima uscita e la fiat 508 balilla 3 marce parte 2 bellissimo tutta la storia della macchina quindi per chi piace l'auto d'epoca io ve la consiglio il sottile piacere di andare piano parte 2 e poi vi consiglio di fare la buona mi no in edicola tutta in edicola perché tanto per cento numeri secondo me ne vale la pena farla in edicola la balilla di walter parte 1 e montaggio passo passo vedete bene però di elettronico si abbiamo ste due cose quindi adesso andiamo a vedere un attimo come funziona che vi voglio far vedere qualcosa di elettronico dai quindi niente andiamo a mettere i fanalini un po la cardona e niente comunque è facile sono due cavi bisogna solo trovare la pila e farlo illuminare allora vi voglio far vedere una cosa vedete che funziona ragazzi mettendo due pile a con tre a vedete spettacolo basta collegare l'interruttore e alla presa e funziona steluzione test comunque io non ho messo niente altro comunque questo me lo tengo buono perché magari per altre uscite può essere molto utile quindi niente e lo teniamo da parte e andiamo con il numero 3 a vedere che cosa bisogna fare ecco allora questo è il fascicolo numero 3 quindi nella prossima uscita abbiamo il cerchione come vi dicevo prima e abbiamo la balilla di walter parte 2 che poi secondo me è la parte 3 boh parte 2 quando le rosse erano fiat e poi abbiamo la carosseria gaston grume tutte parte 1 parte 2 cioè non si capisce più di tanto è non mi piace già perché un fascicolo deve avere una parte non può avere sempre prima parte seconda parte lo fanno opposta per farvi prendere anche le prossime uscite vedete qua è semplicissimo passaggio quindi questi sono i componenti che non sono neanche ad aprire sono due cernire questo è metallo ragazzi e niente quindi io direi che il video finisce qua anche se dura poco con la balilla quindi mettete un fantastico mi piace al video commentate e iscrivetevi al canale noi ci vediamo al prossimo video che sarà martedì mi raccomando non mancate vedremo che cosa si può fare e questo è tutto da supergames modellista 00 e ci vediamo martedì ciao ciao mi raccomando commentate ciao 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 ciao